mmm che c***o ci fai qui madonna ma che c***o ci fai qui perché mi continui a seguire sono invisibile ma che c***o dude audio audio per favore dai su via come on io credo voglio vedere la boss fight c'ho una voglia di vedere il fanatico che non avete idea voglio vedere il mio amico i krull fi krull fi krull fi krull non si era ancora suonato questo incredibile a questo punto potrei anche andare avanti però voglio pulire per le munizioni ogni pochettino potrebbe essere utile ewan ewan il fottuto cecchino ewan maledetto maledetto rotto pixel no dammi il dammi dude ma questa cosa è odiosa muori oh let's go ma come on prima abbassare il pistone non del tutto e poi dopo lo finiamo di abbassare si vedeva quasi il cecchino in fondo che spettacolo immagino poter ammazzare d'acqua il cecchino in fondo bello è ho il citro ucciso veramente nice ok una cosa meno in meno a cui pensare dopo se non perdò l'uso della parola prima esotico a quanto pare esotico hype maniche elettro truccate ma se sei sconfitto scolas con armi blu questo non è nulla se ci pensi non hai tutti i torti in effetti scolas con armi blu era ben più difficile di cos'è è che c'erano altri due a carriarmi in quello non ero da solo non dipendeva tutto da me la differenza fondamentale è quella musica per le mie orecchie perché questo non tanto questo era un po fastidioso in effetti ah gli ho fatto chiedere la granata un po godo eh sinceramente bene oh e tu dove vai a ballare mano vendicativa come on come on io credo profondamente in questo try guarda che lo rendi immune guarda che cazzo di assist che che giocata che ha fatto l'altro sovraccarico insane ha fatto una giocata assurda ha un certo stile ammazzare un campione attraverso una bandiera degli infami eh se posso dir la mia mi è piaciuto questo qua devo ruotare bene i fumogini e devo stare attento alle granate perché tirano le granate che si che fa un po' ok ancora un po' ancora un po' ancora un po' ancora un po' fatto via oh ehi ma chi è matto ha visto ha risposto adesso manca solo quello quello scudo d'arco eh beh che cazzo ha combinato ok è successa una cosa stranissima vado via holy shit non ci provare neanche non ci devi provare oh no fuck c'è riuscito non ci credo non ci credo il coniglio ci è riuscito veramente se poi avesse qualche milione in meno di hp questo coso qua sarebbe più è che gli hanno dato un filino di vita è proprio una cosa ma è una robetta da niente proprio non mi voglio neanche avvicinare troppo perché altrimenti comincia a targettarmi per l'appunto ho sticcato holy shit nice ok boss è andato wow ragazzi prima volta che riusciamo a clearare questa questa stanza ok questa parte qua è un po' strana è la prima volta che la faccio così spero che vada tutto bene c'è uno spottino c'è uno spottino che è qua sopra e se tutto va bene loro non possono sparare a me io posso sparare a loro che è una cisata niente male se chiedete a me ma sei scemo wow da lì va bene ci hanno visto questo che è incredibile 15 decimi ok a memoria gli ho preso il critico dovremmo dovremmo esserci con zero colpi di pesanti che è la cosa veramente terribile come va va yolo ok forse il tempismo non è stato dei migliori oh fuck me dude ok va bene è andata bene ok capisco scusa è pericolosissimo penso se mi shottava tipo mentre gli passava davanti così molto stupido da parte mia che giro minchia sta facendo fuck you dude merda merda di paramita mini scribb terribile ma che cazzo merda che non sei altro schifoso bastardo no no dude ok ci dovrebbe essere un respawn qui un altro teleport e poi la fine la fine di tutto fine dei giochi come va va figli di putt ok dovrebbe essere abbastanza vicino per poter fare nice ok ok no mi ha colpito lo stesso let's fucking go un'ora e venti di divertimento puro gg che grosso gg che gigantesco gg si parlerà per generazioni di quel guardiano di nome once o magari no once ti ricordi che giocavamo su ps3 su destiny una ho 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 wawa con la voce da bambina dolce e innocente mi è anche entrata la gatta a un certo punto è entrata Emy mi è entrata la micia i modificatori esterni